Bene, è andata bene, sono arrivata all'arrivo. Ciao. No, dai, è andata abbastanza bene, l'importante era non prendere trochi secondi da quelle che sono salita, ma anche per poterle darne qualcuno di avversari, e quindi sono riuscita a divendermi al meglio e a dare anche qualche secondo a chi è importante per le tappe in salita, dunque va benissimo. Per le salite? Per le salite... Come la gamba, insomma. La gamba risponde bene, speriamo di tenerla così anche nei migliori gli ultimi giorni e vediamo di far la differenza, anche di provare a far la differenza, nelle ultime due tappe che saranno quelle più decidibili. Il podio lo senti alla portata? Il podio, spero sia la portata. Devo nuovamente sollecitare... Sono preparata per questo. Marian Voss, cortesemente. Sono veramente da. Marian Voss, please on the podium. Un po' di fortuna non guasta, vediamo se tutto va a posto, perché no. Padre per questo... Grazie a tutti.